segui la sette anche su instagram la 7 ovunque con te senta ma è la motocicletta quando se la comprerà e non penso mai ormai resterà un sogno sarà impossibile però mi piacciono molto e seguo molto per quello che ho fatto non penso che chi 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 ha ricevuto le mie attenzioni non penso dimenticherà e quindi niente molto forse ha fatto molto male in giro quindi non penso che si dimenticheranno nel breve nel periodo fino a quando io potrei avere la forza di farmi in giro in moto